Il Consiglio regionale approva la legge di bilancio 2020-2022, il DEFRE e la legge di stabilità e lo fa, prima volta nella storia, in videoconferenza per le restrizioni dovute all'emergenza coronavirus. L'approvazione è arrivata con i voti favorevoli della maggioranza e i contrari dell'opposizione. L'assessore Andrea Tronzano ha sottolineato che si tratta di un bilancio frutto della visione politica della maggioranza, ma anche della collaborazione tra tutte le forze politiche di fronte alla terribile emergenza che stiamo vivendo. Tronzano ha illustrato diverse misure e provvedimenti per aiutare economia e imprese. Il piano della competitività che utilizzerà nel più breve tempo possibile i 600 milioni che ha a disposizione, la regione ha anche iniettato liquidità, 200 milioni di euro, una tantum, che potrebbe consentire a molti di sopravvivere in questi mesi di grave difficoltà economica. Abbiamo fatto una moratoria sui mutui che le aziende hanno in capo con la regione, in particolare con Finpiemonte, e anche lì abbiamo liberato 110 milioni di euro. Giudizio negativo sul bilancio arriva da tutta l'opposizione. Per Raffaele Gallo, del Partito Democratico, non ci sono fondi sufficienti per interventi a breve. Serve recuperare risorse per le imprese. Chiediamo di utilizzare subito la leva fiscale dell'IRAP. Chiediamo con forza di sostenere il comparto turistico che vive un momento molto difficile. Crediamo anche che tanti numeri che ha annunciato l'assessore Tronzano di liquidità di pagamento, non essendo strutturali, ci pongono poi il problema da giugno in avanti di quale risposte come regione Piemonte diamo. Soddisfazioni invece da parte di tutte le forze di maggioranza. Il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, ha ricordato l'impegno di volontari e lavoratori e ha elogiato alcune misure adottate. Siamo soddisfatti di un bilancio del genere che vede, dopo tanti anni, 14 milioni per i piccoli comuni. Questi 14 milioni vanno anche in visione di questa crisi, perché saranno tante piccole aziende che potranno lavorare nei loro comuni. Puntiamo molto sul piano competitività. La provvisione era di gestirlo in sei anni. Oggi con questa emergenza noi vogliamo che sia esaurito in un anno e naturalmente andrà profondamente rivisto. Soddisfatto il presidente del Consiglio, Stefano Allasia, la seduta in videoconferenza, la prima in assoluto in Italia, è stata una bella prova di tutti i consiglieri regionali e un modo per stringerci in un caloroso abbraccio virtuale.